Ehi già? Ci vatti a prenderla? Che vecchio! La buona! Sì! La giacca mi occupa La giacca è morto Vai via! Ma no! Ci voglio vedere la casa di... Lì era di una rappresentante che la trova lì che la voleva vendere perché aveva comprato tutto che aspettava l'inferno non sarebbe neanche 5.000 km Non c'è, non era lì C'è in area, c'è detto dov'è Siete pronti a cantare Happy birthday to you? Eh Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Tanti auguri Gesù Cristo Happy birthday to you Happy birthday to you Ma tanto vai al bagno Via a sinistra E' una ciglia qua dietro non c'è un bel letto Sai che ti stai a pesa e anche ti tira Oh oh Eri Scott! Marzo, passarello! Eeeeeee Eeeeeee Ma cos'è il piatto che ho fatto io? Non c'era lei Banane ci dava questo Banane a fettine Chi manca ancora? Ancora io L'uomo che filma manca No Bananis! Che ha fatto la missù? Eh scusa Viva! Oh ma ce la penso Fiarra? Io basta sappiamo Lo naso con il naso Ma che non soppi con il naso No cazzo Ha girato di qua perchè lo dobbiamo fotografare Immortal art Immortal dell'arte dobbiamo Ah il mio bicchiere? Sono rossiasi Sì Sì Giù lì! Ah Qual è il tuo bicchiere? Eeeh Quello Questo Questo Buongiorno Buongiorno Si Si Ma Ma Si Ma Ho finito la copa nella moto 25 quest'anno Dai Ah Chi è senza? Eh non so Io Non so Buongiorno Buongiorno Sembra va Sembra Fotoigienico Foto igienico. Passate che ha 6 volte qui doveva. Devo vedere abbastanza, va? Viva! 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 Augurio! Sì, viva! Musica, musica! Vai, vai Turu! Vai di musica già! A collo, bevilo, bevilo! Vai Già, secca! Dai, fai la desiderio! Fai la desiderio! Ma devi girarli qua, però, perché chi ti fa la foto... Un cobertone uff! Non è cobertone uff! Non è cobertone uff! Potevi regalare un treno di gomma, è la meglio, secondo me. Non soffia le candeline, seppure la trova sulle termocoperte! Se funziona, torno anch'io con le candeline! Pronto, pronto, pista! Incerca questa! Vai, polmone d'acciaio! Vai! Non disney! Non disney! Non disney! Grazie! Ahahahah! Ahahahah! Non lo presenti! Fai gli onori di casa tutto il giorno, sto qua! Chi? Budola! Non so, sembra che abiti lui qua, Dio! Non so, io! No, ti sporca pulisce, Odino! No, no, ma anche da prima, da prima! Ma non è che l'hai assunto come badante per te! No, ma la faccio vedere qua posta! Non so, io lo faccio vedere qua posta! Eh, basta! Guarda che c'è il bar che mi chiamano! Guarda che c'è il bar che mi chiamano! Guarda che c'è il bar che mi chiamano! Chi? Dai, guarda che c'è il bar che mi chiamano! L'hai assunto come badante! Si! No, gli ha detto dai vieni così! Oh no, lo metti su Facebook! Dite lo capiti che sei delle merde! X! Ok, se non quello che tra me con le mani! Se stai filmando! Dai, sto filmando l'oro! E poi si mette pure sul fresco! No, lei no! Beh, lei che... Sino! Sì, sì, il suo cane qua è passato tutto eh Gianni! Questo cane è passato tutto eh! Dio poi! E vedi che si nervo agli scambini! È stato anche a Saspis! Vedi che si arrabbi! Sì! Eh, Swery! Dov'è il cane più cattivo del mondo? Dov'è? Uh! E' andato ad architettare il nostro omicidio! Ci mangierà tutti! Bisogna avere più paura non vedendolo! Li dai da mangiare, è vero! Non è tanto! Non è che quello lì appena esce ci ammazza tutti! No, comunque ti dicevo! Fare un trappianto di cervello! Quel cane è lì su un pitbull! Eh! Stermina tutti! Guarda la mito! Guarda la partenza della gara 1 più dritta! Piace! Spera che non lo so! Dai un dito su per un braccio! Oh, qua! Sono 5 minuti li hai filmato! Hai anche rotto il cazzo! Scusi! Sì, infatti! Si firmi anche mentre mangiare! Sì, non so! Voi filmare!